Arrivano gruppi di 10, 20, 50. Gli autobus che li accompagnano sono delle associazioni di volontariato, ma anche quelli dell'autoparco Vaticano. Ci sono i richiedenti asilo, ma anche i più poveri, quelli che non hanno neppure una casa. Sono tutti per loro i 2000 posti del circo di Roni Vassallo, in arte Roni Roller. Siamo stati contattati dal Vaticano per questa manifestazione, questa cosa di beneficenza, e noi ci siamo fatti trovare pronti. È una bellissima idea. La cosa bella è che possiamo dare l'opportunità a chi non ha le possibilità di passare due ore diverse dal solito, di svago. L'ambulanza che staziona l'ingresso è affiancata da un camper medico dell'elemosineria vaticana. Non serve soltanto per le emergenze, ma offre un prezioso servizio in più. Un ulteriore servizio, un servizio dedicato alla salute, perché sono persone che normalmente non si possono occupare della propria salute. E quindi cerchiamo di offrire soprattutto farmaci, trattamenti medici, medicazioni e orientamento ai servizi. A me commuove molto pensare a un paziente che mi ha chiesto Dottoressa, ma lei non ce l'ha una medicina per il freddo? Io vi chiedo di rispondere a questa domanda. Non esiste una medicina per il freddo. È il momento di iniziare. Manco, prima dei circensi, al centro dell'arena si presenta un artista di strada arrivato dalla Spagna, che ha scritto una canzone per Papa Francesco. È il suo ringraziamento per il modo in cui la Chiesa lo ha aiutato. Quando abitavo per la strada, perché non trovava casa, non trovava niente, non trovava lavoro, ho fatto con tutto il mio cuore la canzone al Papa Francesco, perché lui adesso, piano piano, ha trovato una stanza per abitare. E questo è un divertimento, una fantasia per la sua mentalità e per andare avanti, perché le ultime diventeremo le prime. Ed ora che lo show abbia inizio, per i bimbi che lo vedono per la prima volta e per i tanti adulti che non hanno più potuto permettersene uno sin da quando erano bambini.